23 aprile 2019. La Lux Eterna inaugura la piattaforma oceanica Rosa Blu. La piattaforma fu costruita in prossimità della Fossa delle Marianne per ricavare un'energia illimitata che promuoverà innovazioni nel campo tecnologico, sanitario e urbanistico in ogni parte del mondo. L'operazione si svolse con successo e molti problemi ambientali sparirono e la terra stava ritornando al suo vecchio splendore. 23 aprile 2023. La setta Genesis capitolo punto 1 versetto 32 attaccò la piattaforma facendola. La distruzione della piattaforma oceanica provocò un effetto domino geologico di scala globale. I risultati furono vari sconvolgimenti geologici che condussero la vita sulla terra ad un passo dall'estinzione. Rapporto della divisione Arpino-Peninsieno della Rosea, Research of Coming Earthworks Apocalypse, specializzata in minacce con fattori geologici. Capodivisioni Natal Geologica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.